Parliamo oggi di quella giustificazione per fede che abbiamo visto essere un elemento fondante della dottrina luterana, ma anche della teoria agostiniana, tant'è che noi sappiamo che Lutero stesso sostiene di essersi ispirato ad Agostino nell'elaborazione della sua teoria. Lutero era un monaco agostiniano e quindi dice che le sue affermazioni in merito alla giustificazione per fede non sono una invenzione, non sono una novità, ma sono già contenute all'interno delle opere di Agostino. Guardiamo questa immagine, questa immagine rappresenta Gesù che salva, tira fuori dalle acque un uomo che sta annegando, che assolutamente non riuscirebbe mai a salvarsi senza l'aiuto di Dio. Questa immagine rappresenta esattamente quello che sia Lutero e sia Agostino sostengono, però con qualche differenza. Vediamo un po'. Allora, Lutero cosa dice? Lutero dice che con il peccato originale, ce lo dice la Bibbia, l'uomo si è marchiato di un marchio indelebile, che non è cancellabile, gli appartiene nella sua natura e quindi da solo egli non potrà mai far nulla per poter cancellare questo marchio. Il fatto che egli possa essere salvato è semplicemente una scelta di Dio, che decide a un certo punto che alcuni uomini saranno salvati e altri no, indipendentemente dalle opere che loro possono compiere, dalle preghiere che possano fare, dal tempo che possano dedicare agli altri o a Dio, perché se Dio non ha scelto di salvarli, loro non possono assolutamente nulla. Quindi per Lutero la grazia è determinante, cioè è l'unico elemento utile e indispensabile per ottenere la salvezza, indipendentemente dalle opere che un individuo può compiere oppure no. Vediamo cosa pensa invece Agostino, cosa pensava. Agostino naturalmente è precedente a Lutero, Lutero dice di essersi ispirato a lui, allora Agostino invece sosteneva che la grazia è concomitante o cooperante, cioè anche in questo caso è indispensabile, è necessaria per la salvezza, però interviene un altro elemento che collabora insieme alla grazia, e questo elemento è la volontà umana. Per Lutero non esisteva alcuna volontà, la volontà dell'uomo era inesistente, cioè il libero arbitrio era inesistente. Invece Agostino parla di volontà, cioè sostiene che Dio insieme alla grazia ci darebbe una volontà buona, alla quale noi possiamo scegliere di aderire oppure no. Se aderiamo a questa volontà buona noi collaboriamo alla nostra salvezza, contribuiamo attraverso delle testimonianze concrete, le preghiere, le opere buone, tutto quello che ci viene chiesto di fare per salvarci. Quindi la fede da sola comunque non è sufficiente se l'uomo non contribuisce alla sua salvezza attraverso queste opere. Infatti nella teoria di Agostino noi abbiamo questi tre elementi, la grazia, la volontà e la libertà. La grazia non ha l'effetto di sopprimere la volontà, nel senso che se l'uomo persiste nella sua volontà di peccare, quindi non aderisce a ciò che Dio gli chiede, l'uomo non si salva, quindi non sopprime la volontà, rende però questa volontà buona, le dà una mano, la aiuta da che con il peccato originale questa volontà era diventata cattiva, pessima, Dio ci aiuta a dirigerla verso il bene. E quindi questo potere di usare bene del libero arbitrio non è nient'altro che la libertà. Ecco che quindi interviene il libero arbitrio. L'uomo è libero di aderire alla grazia che Dio ci ha dato oppure no. Attenzione però perché non si capisce bene da quello che scrive Agostino se tutti gli uomini possono collaborare dirigendo la volontà verso il bene e la salvezza oppure se ci sia questa sorta di predestinazione che fa sì che alcuni siano scelti per essere salvati o altri no. Quindi la possibilità di fare il male c'è in ogni caso ed è inseparabile dal libero arbitrio. Però il fatto che noi possiamo scegliere di compiere il male oppure compiere il bene questo è un segno della libertà che ci è stata donata da Dio. E quindi il grado più alto della libertà che può avere l'essere umano è quello di essere stato scelto da Dio al punto di essere impossibilitato nel compiere il male perché Dio ci ama tanto che fa sì da dirigere la nostra volontà verso il bene. Dunque l'uomo mantiene un ruolo fondamentale un ruolo importante all'interno del suo processo di salvezza perché la grazia non sopprime la volontà ma la dirige semplicemente.